Hanno ribassato molti vitamini che solo per adesso all'Itle a 2,29 euro 2,29 euro sono 14 pezzi 14 2,29 euro tutto Poi voglio provare anche questi biscotti qua Dalla confezione sembra che dovrebbero essere confezionati 1 a 1 Forse 2 a 2 Quello dovrebbe essere il prezzo Poi prendo il marshmallow a 1,29 euro Poi noi compriamo spesso il melone Facciamo primo, abbondante E poi dopo come dolce o come frutta sul finale Mettiamo un melone Il cocomero quando c'è Qui c'è l'Itle